Il 2019 è anno di elezioni per tutti e così anche per la carnevalesca. Vorrei ricordare a tutti gli associati dell'ente carnevalesca che sul sito ormai da qualche giorno è disponibile il nuovo regolamento per le elezioni del prossimo triennio per il consiglio direttivo dell'ente carnevalesca. Quindi chi vuole presentare una lista per partecipare a queste elezioni può guardare sul sito www.carnevaledifano.it o .com e scaricare tutte le regole per l'elezione del nuovo consiglio. Le elezioni saranno il 23 di giugno, domenica 23 giugno. Noi scadiamo il 26 di maggio, ovviamente il 26 di maggio è la stessa data delle elezioni comunali quindi non era ovviamente il caso di mettere anche le elezioni del consiglio dell'ente carnevalesca quindi le nostre elezioni per il consiglio dell'ente carnevalesca saranno il 23 di giugno quindi andate pure sul sito e chi ha piacere di concorrere a queste elezioni ovviamente sono aperti a tutti i tesserati. Grazie 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 Grazie